Buonasera a tutti, grazie per essere qui, soprattutto grazie al nostro ospite, il dottor Pasquale Aiese, nonché Jafari Singh Aiese. Anzi, spiegaci un attimo come mai abbiamo messo Jafari Singh. Giusto un'introduzione, in tanti già lo sanno però. È una storia abbastanza mai stagionata. Ringrazio per l'invito, è molto bello stare qui nel salotto di General Life, che è un luogo frequentato da tante belle anime, quindi sono molto onorato di poter essere tutti voi. Il Jafari Singh è il mio nome in autodeterminazione. Io ho una mia rettività, una mia sovranità e la custodisco gelosamente. In risposta ovviamente a tante cose che sono capitate nei miei anni di professione medica, in primis, in ultimo, in primis, come vogliamo vedere, da punti di vista differenti, questi ultimi tre anni sono stati veramente difficili da sostenere. Io rispetto le leggi, non soltanto la Costituzione, ma tutte le leggi che i padri della Costituzione hanno messo in gioco, in particolare l'881 del 77, a firma d'Aldo Moro, Tinenziemi, tante figure bellissime della prima Repubblica, che è quella che è stata eliminata e saturata da un certo Soros, e quella legge lì, di rango superiore, ci dà proprio il diritto e dovere di adoreterminarci nel momento in cui scopriamo che i nostri politici non sono altro che amministratori delegati di una certa lobby. Non tocchiamo tanti altri argomenti, se no poi non torniamo. Quindi il mio nome in alternazione divento disponente di me stesso, Gia Parising è il disponente di Pasquale Aiese, che è un Pasquale Aiese in alternato, non è in stampatello come ce l'hanno poi buttato lì in quel codice fiscale con bondo commerciale, e Gia Parising dispone di una tutela naturale, diritto naturale, e se attaccano Pasquale Aiese risponde Gia Parising, che è tutelato dal diritto internazionale. Quindi usciamo dall'amministrazione della Repubblica Vita di S.P.A. e da questi amministratori delegati che sono in finzione e commettono abominio quotidianamente i cosiddetti politici, che non sono assolutamente eletti attraverso le elezioni democratiche, perché le elezioni sono manipolate, l'abbiamo scoperto negli ultimi anni. Assolutamente. Allora, stasera faremo una diretta un po' particolare, non parleremo di un argomento, di un sintomo, diciamo, perché spesso parliamo di argomenti, ma volevo iniziare a conoscere un po' meglio alcuni professionisti e quindi con delle domande abbastanza personali, per non dire molto personali, scenderei a conoscere meglio Gia Parising. Allora, intanto, quanto incide, secondo te, la professione che fa un medico con la scelta della sua anima e, in questo caso, anche della tua? Noi scegliamo i nostri genitori. Gli animi dei figli scelgono gli animi dei genitori, dice Bert Ellinger. Io ho scelto dei genitori stupendi, con grandissimi e stupendi problemi, come tutte le famiglie, soprattutto quelle che hanno attraversato le fasi della Seconda Guerra Mondiale, dove è un finto benessere, una schiavitù, in qualche modo portata avanti con una dedizione massima, perché io ho avuto due genitori molto dediti al lavoro, alla professione, precisissimi, onesti, rettitudine massima, ma che comunque hanno in qualche modo dedicato la loro vita unicamente al sacrificio. E un figlio, quando riceve tanto amore, vorrebbe ricambiarlo ai propri genitori. Normalmente noi sappiamo che i terapeuti, così come i medici, soprattutto, che sono i terapeuti più presuntuosi in assoluto, cercano di salvare la vita dei propri genitori. Quindi è questo il movimento dell'anima, che è un movimento che ho compreso bene negli anni, soprattutto con la meditazione, con il Satranam al-Azai, e infine anche con le costellazioni spirituali. È un movimento che nasconde una serie di indizi relativi a quelli che appunto chiamiamo muri segreti, chiamiamo irretimenti, sono patti di fedeltà col sistema familiare che bisogna assolutamente sciogliere. In questo modo si è più centrati anche in quello che chiamiamo ordine dell'aiuto, altrimenti vogliamo per forza salvare qualcuno, così come non potevamo salvare mamma e papà, non possiamo salvare proprio nessuno. Possiamo essere al servizio della vita e fare in modo di condividere, e questo è il mio atto medico, di condividere un livello di responsabilità importante con chi fa la richiesta, d'aiuto, e questo io l'ho riscontrato molto sia nelle leggi biologiche che nella sistemica familiare, per questo poi parliamo di scienze biosistemiche. E sono arrivato a questo livello da epidemiologo, guadagnando tutto ciò che mi hanno insegnato i maestri all'università. Non pensiamo che questo livello sia un livello alternativo, è un livello molto coerente a tutto quello che i maestri della facoltà di medicina, del primo policlinico, del primo policlinico storico, quello che ha dato la laurea a San Giuseppe Moscavi, mi insegnavano a suo tempo. E questi professori dicevano che la malattia non esiste, esistono le persone, i sintomi, se voi parlate di malattia davanti a un paziente, lo fate ammallare ancora di più. Dovete soltanto stare a capezzare il paziente e dargli felicità, dargli gioia. C'è un bel film che parla di Giuseppe Moscavi, un film di Beppe Fiorello, molto bello, emozionante, che è l'amore che guarisce. Lui proprio amava i suoi pazienti, e lui guariva poi il muore. Non c'era bisogno di chissà con i medicinali, anche durante l'epidemia di colera a Napoli, in quell'epoca e l'epoca, nel 1900, lui semplicemente, ovviamente, evitava che bevessero acqua sporca, ma poi stava a letto del paziente, li coccolava, li aiutava, gli faceva sorridere. Era questo il suo principio, ed è stato un grande medico, un grande clinico semiologico. Lui riusciva a capire, palpando l'addome, se era il caso di fare un intervento, se lasciare tranquillo il paziente. Cosa che oramai, purtroppo, sfugge. I ragazzi che sono in medicina oggi sono dedicati all'intelligenza artificiale, che già ti dà un verdetto orientato verso il peggio, verso delle interpretazioni di malignità o di benignità, che sono interpretazioni che la biologia non prevede, perché maligno e benigno sono termini mistici, non sono termini scientifici. Quindi sei stato anche un po' fortunato con i docenti, perché è vero che l'università serve, ma se poi serve per farti perdere la direzione. Sono stato fortunato nel non avere genitori che volevano che mi lavorassi in medicina. Purtroppo gran parte dei miei colleghi avevano già la strada segnata. Io ero figlio di impiegato e di una professoressa di storia e filosofia, mangiavo pane Giordano Bruno, pane Socrate a pranzo e a cena. Tutto mi veniva in mente, tranne che farmi raccomandare ad un esame, oppure studiare per laurearmi, io studiavo per imparare. Questa è stata la mia forza e il mio vantaggio, soprattutto la mia grande fortuna. Parlo per me, ma parlo di tanti colleghi, tanti amici miei coetanei che se ne sono andati in pre-pensionamento proprio il periodo del Covid. Non potevano sopportare tanta assoluta ignoranza e stupidità. Pensate che uno degli effetti collaterali più gravi della ventilazione assistente, che l'ossigeno va sempre monitorato e dato col cucchiaino e l'embolia polmonare. I medici rampanti, anche gli alternativi, parlavano che la proteina SPAC provocava l'embolia polmonare. Un dato così semplice, clinico, non c'è bisogno di essere dei sapienti, un Cardarelli, un Giuseppe Moscati, un Mezzogiorno, un Teodori. È la cosa proprio dell'ABC. Quindi il discorso appunto non è tanto... E la medicina ha studiato in un certo modo con i professori che c'erano a quel tempo. Io, un professore di epidemiologia, un professore Atena, 30 anni fa mi diceva, guarda qua, che le pubblicazioni scientifiche sono una schifezza, giusto il 3-4% possiamo prevederle in considerazione. e parliamo degli anni 90, quando esisteva ancora la Cochrane, che era un'organizzazione formata da per degli indipendenti che facevano studi corti, studi seri, che ancora non avevano la validità. Almeno fino al 2016 avevano la loro validità. Poi nel 2016 la Cochrane è stata esaurata da una certa fondazione di quel Bill e Melinda Gates Foundation. Quindi furono eliminati... L'ho sentito nominare, l'ho sentito nominare. Non esistono più pubblicazioni con epidemiologi che revisionano in maniera... Che stai parlando di PubMed? PubMed è un suo surrogato. PubMed, come tutte le altre riviste importanti, come anche Lancet, si atteneva a ciò che coprenti i lavafori, British Journal, ma questo fino al 2015-2016. Quindi se cerchi una pubblicazione nel 2002-2003 di PubMed, c'è il visto anche di Cochrane, allora noi troviamo qualcosa di buono. Ma tutto quello che tira fuori i PubMed oggi è porcheria, è mondizia. Non c'è niente di importante, di interessante. Lo dico da epidemiologo, la mia specializzazione è scritto chiunque con un articolo scientifico, a darmi la prova che quell'articolo ha un livello di veridicità, ma per un semplice motivo. Lo dicevano i miei maestri, ma lo dicevano anche i grandi fisici teorici, lo dicevano tanti scienziati, non bisogna arrivare a popper. Una pubblicazione scientifica è scientifica se ci sono degli errori. Se non riusciamo a trovare nessun errore, se siamo obbligati a non poter trovare alcun errore, è un dogma, è un trattato religioso. Invece l'epidemiologo cerca un errore nella pubblicazione e non è perché si è complottisti, è perché si è scientifici. E da quell'errore si impara, da quell'errore si impara a fare qualcosa di meglio, perché la scienza è un fenomeno evoluto ed evolutivo, è un fenomeno dinamico, è un fenomeno che è basato sul dubbio, non lo so la certezza. Quel so di non sapere è la più grande opera scientifica che un certo Socrate disse un po' di tempo fa, ma anche a lui gli dico la cicluta, dava fastidio, so che mi rompeva le scatole a tutti. Per fortuna adesso si vanno in un mondo. Saranno in un altro mondo più elevato ora, ci guarderanno dall'alto. Ma il mondo è sempre stato così, non è che oggi siamo arrivati ad una degenerazione, la sfida tra il bene e il male è quello che ci mantiene in vita e ci permette anche di essere o in abominio o in onore. Poi c'è un destino che possiamo pretendere troppo di nero negli stessi negli altri. Senti, potresti dirmi secondo te la differenza che c'è tra malattia e sintomo? La malattia è un logo, un'etichetta inventata, spesso la malattia porta il nome del suo inventore, anzi quasi sempre. Il sintomo invece quando lo possiamo osservare secondo un codice fondamentale che è quella della fisiologia adattativa, cioè la Lorenz e il Nobel per la medicina nel 74 significa che fine 700 c'è un filone di studio che è stato poi sempre un po' messo ai margini che parlava di fisiologia adattativa nel senso che la fisiologia non è animata come un cartoon tutto quello che accade nel corpo accade come fenomeno di adattamento all'ambiente e il sintomo esprime quell'adattamento all'ambiente di quella persona unica che ha il suo sistema e il suo ambiente ovviamente non è più l'abitat non è la savana e la famiglia e queste sono le scienze biosistemiche e comunque tutto ciò che questa persona attraversa anche nella sua evoluzione del suo movimento verso la vita e il sintomo è sempre qualcosa di soggettivo e personale anche il dolore la soglia del dolore è molto soggettiva una stessa tra virgolette malattia procura sintomi completamente diversi anche a livello di terminazione nervosa a due persone diverse ma sai gli esempi sono tanti per esempio una nevralgia ad un nervo sciatico si può manifestare con una forte paura e una forte perdita di tutte le libertà possibili e immaginabili quindi si attiva anche tutto si attivano anche tutte le aree muscolari le aree fasciali quindi l'immobilità diventa cruciale diventa assolutamente inibita la mobilità se invece c'è abbastanza rilassamento se si affronta il sintomo con classe di eleganza anche se c'è quel dolore riesce a fare un po' di cose che l'altro soggetto non farebbe e parliamo di due cose due livelli diciamo se andiamo a fare un esame approfondito il livello di lesionalità è la stessa però c'è qualcuno che risponde in un altro modo perché fa altri conflitti aggiuntivi o trattini liquidi che non si sente a casa o va nel talamo perché pensa di stare in trappola quindi fa più adrenalina fa più ritenzione di acqua in terminazioni nervose che comunque possono rispondere sintomatologicamente un movimento così impaurito rispetto a una sintomatologia noi diciamo perché lavoriamo con la sistemica cosa è bene porta il volto della mamma e infatti se attivi tutti questi altri conflitti che non sentirsi a casa e la mancanza di libertà sono entrambi due sintomi che appartengono al paleoencefalo il tronco encefalico lo spartiacqua tra ciò che mi avvelena e ciò che mi nutre e la protezione rispetto alla vita che ci lo dà anche il cervelletto è il rapporto con la mamma è la mamma che ti indica quale è il boccone giusto è la mamma che ti protegge anche attraverso il seno i primi attimi della vita sono quelli là se ci sono state delle relazioni sospese a quel livello se ci sono stati dei problemi quella fase cruciale o abbiamo avuto una mamma più che occupata alla nostra necessità preoccupata e condizionata da tutto quello che sono gli stimoli esterni abbiamo le idee confuse e quindi è molto facile avere un sintomo molto più importante se abbiamo le idee confuse se invece stiamo in tranquillità e lavoriamo per guadagnare quella tranquillità congedandoci che rende un congedo a tempo indeterminato sempre onorando chi ci ha dato la vita chi ci ha dato il dono più grande che la vita il nostro movimento verso il sintomo è completamente diverso quindi questa è una conferma biologica e scientifica che non esiste la malattia esiste un sintomo che è gestibile anche in virtù di quelle che sono le nostre opportunità le nostre possibilità e anche soprattutto il nostro destino su quel livello lì si può un po' lavorare si può fare in modo che quel sintomo diventi un'opportunità di cambiamento ma non semplicemente perché dobbiamo guarire da un brutto male perché quel sintomo ci sta indicando una strada una strada riparativa che ci fa osservare anche il mondo ci farà osservare anche il mondo con occhi completamente diversi bene e c'è si può recuperare il rapporto con i genitori si può recuperare sempre vero? tutto si può recuperare dipende da quanto è un pochino un pochino già scritto e da quanto possiamo metterci in gioco sai il discorso di questi tempi abbiamo anche parlato molto di libero arbitrio perché il male la magia nera qualcuno dice agisce dicendoti la verità poi sta a te scegliere e la scelta avviene attraverso un livello di coscienza di conoscenza e di riconoscenza perché la riconoscenza c'è proprio quando mantieni un livello onorevole con chi ti ha passato la conoscenza e quando sei in quel livello lì l'equilibrio è molto più facile da raggiungere anche la richiesta è molto più precisa se invece chiedi di essere salvato lo chiedi a qualcuno ti stai legando a quel qualcuno e quel qualcuno si lega a te e molto spesso quel qualcuno agisce più per aiutare se stesso nel momento in cui aiuta gli ordini dell'aiuto prevedono fondamentalmente che chi aiuta evolve attraverso l'evoluzione di chi è aiutato se invece chi aiuta non permette l'evoluzione di chi è aiutato c'è entrambi piangono e muoiono dice Bertellinger e questo avviene soprattutto quando c'è una violazione degli ordini dell'amore quando un figlio cerca di salvare un genitore quindi molto spesso quando mi chiedono posso portare mia mamma ma cos'è un pacchetto regalo lo mettiamo sotto l'albero di Natale porti tua mamma è tua mamma che può portare da qualche parte altrimenti la mamma viene semplicemente per far contento a te è giusto che mamma segua il percorso che la fa sentire nelle sue forze non si tratta di fare medicine migliore delle altre le medicine che funzionano sono quelle che fanno sentire chi sta usando quel tipo di trattamento lo fanno sentire al sicuro lo fanno sentire a casa lo fanno sentire accudito se ha bisogno di accudimento le leggi biologiche e la sistemica richiedono un passo un pochino forse più importante che è quello di uscire da quel loop di essere assistiti e chi è assistito generalmente è incapace di intendere di volere ma di prendersi delle responsabilità e soprattutto di pazientare perché il termine paziente è il termine più bello che sia mai stato inventato e creato nel mondo della medicina il paziente è colui che è paziente in attesa di stare meglio e chi fa il terapeuta il medico deve essere un facilitatore deve aiutare il paziente a pazientare meglio perché fondamentalmente e questa è una cosa difficile da far capire soprattutto a chi è molto legato sentimentalmente considerate io ho insegnato omeopatia negli anni 90 ho studiato medicina cinese ho praticato Kundalini Yoga lo insegno fondamentalmente i processi guariscono nonostante il nostro intervento perché l'autoguarigione è un dato di fatto la malattia è già guarigione se permette la cosiddetta se permettiamo al corpo di fare il suo lavoro senza ostacolarlo quindi il compito del terapeuta del medico è non ostacolare le risorse già insite poi se c'è da prendersi un medicamento che raffreddi il corpo che lo riscaldi perché i sintomi sono o caldi o freddi in e yang non ci sono troppe sottigliezze da dire quando c'è la somma massima diceva il grande mezzogiorno il mio professore di anatomia di semiotica medica dopo la laurea se date più di un farmaco lo diceva in napoletano lui parlava in greca antico non ve lo dico in napoletano perché diceva pure va che brutta parola ma dopo la laurea se date più di un farmaco non avete capito niente un farmaco basta per far sentire meglio lo diceva un professore universitario che è un grande professore universitario non così non un raccomandato messo lì apposta dalla politica che è andata via via degenerando a degenerare anche tutto quel grande sistema in onore che è stata la facoltà di medicina perché la facoltà di medicina nasce con dei principi completamente diversi da quelli cui poi siamo arrivati negli ultimi 30 anni 40 anni Speriamo che cambi qualcosa o che magari con questi corsi nuovi anche con la scuola che è fete di scienze biosistemiche e altri insegnanti che comunque cercano di svegliare un attimo e che qualche laureando diventi curioso e non sia contenti di quello che studi all'università anche perché io sono dell'idea che altrimenti verranno sostituiti dalla medicina dall'intelligenza artificiale perché quando ti limiti a dare un farmaco per un sintomo lo può fare tranquillamente anche ma caro Daniele l'intelligenza artificiale già esiste a questi medici ragionano in maniera stereotipata non hanno voglia di applicarsi troppo stamattina parlavo con un vecchio amico settantenne che aggiusta ancora quelle auto antiche la 500 quella Topolino ha detto ma devi insegnare i giovani stanno e i giovani quelli vanno di fretta devono fare il gioco sul tablet devono fare quella cioè c'è un mondo virtuale che è già intelligenza artificiale e imparare la medicina attraverso questi sistemi che noi stiamo cercando di utilizzare in onore non è la stessa cosa che stare a contatto con la persona e capire tanti altri aspetti di quelli di cui parliamo noi ma questi aspetti sistemici che noi ci diamo tutto un'enfasi particolare cento anni fa San Giuseppe Moscato le persone le curava così con la rassicurazione e il convincimento era un rapporto umano era un rapporto di amore non era un farmaco la medicina ovviamente già allora Giuseppe Moscato aveva tutti quanti contro perché chi aveva chi esercitava potere sono due livelli libertà e potere amore e odio sono i quattro livelli che possiamo anche rappresentare sugli assi cartesiani se c'è troppo potere non c'è libertà se c'è molta libertà come faceva San Giuseppe Moscato si può anche morire di tutta quella libertà di quell'amore perché significa innanzitutto lasciare liberi e non rendere schiavi le persone che ti fanno una richiesta e oggi anche con le medicine alternative noi tendiamo un attimino a monopolizzare far credere che se prendi questa cosa ti salverai l'idea della medicina preventiva che prendi un medicamento anche naturale per prevenire qualcosa e non è coerente perché se ti capita un conflitto biologico importante significa perdere il lavoro perdere il marito perdere la moglie un incidente una sottrazione un'esclusione un omicidio un furto anche se fai il vegano ma tu la botta la prendi lo stesso anche se prendi l'omeopatia tutti i giorni per prevenire il cancro ma tu comunque entri in un loop che prevede una risposta organica se quella risposta organica non la conosci non la comprendi col cavolo che poi la curi con le medicine alternative anzi se i medici quelli là della mappa oncologica sanno che tu ti curi con la medicina alternativa un piccolo tumore te lo fanno diventare un cancro metastatico per convincerti a fare le cure per stare in quella convenzione che è una convenzione commerciale la medicina è diritto positivo è una convenzione commerciale che viola la tua sovranità e viola anche la sovranità del medico perché il medico ti fa firmare rispetto a un protocollo che manco lui conosce e che neanche ovviamente tu sei tenuto a conoscere perché tu sei assistito non hai capacità di intendere e di volere nel momento in cui firmi quel protocollo puoi tranquillamente morire nessuno andrà in carcere se il medico invece non ti fa firmare quel protocollo gli rischia quindi negli ospedali da tantissimi anni non solo si falsificano le schede dell'invissima ospedaliere le SDO ma io lo dico da professionista di igiene ospedaliere ho fatto le ispezioni di ospedale e noi abbiamo denunciato a suo tempo questi fenomeni e inoltre si fa medicina difensiva perché tutti vogliono stare nel posto tranquillo e la gente dice ah il dottore mi ha detto ma scusami quel dottore chi ti ha detto ti visitava con la mascherina e pretendeva che tu ti vaccinassi per il covid e mi stai ancora a parlare di quel dottore è gnavo è stupido è ignorante oppure lui si è fatto il finto vaccino come hanno fatto tanti medici e poi stava lì e gli ambulatori a guadagnare 7, 8, 9 mila euro al mese ho visto ragazzini che si sono comprati una Porsche non sanno manca di cosa farsene di quei soldi stando lì così a aspettare la gente in fila a cui è obbligati ad un green pass che è assolutamente un'altra transazione commerciale la medicina è tutta una transazione commerciale e nel diritto positivo è assolutamente schiavizzante e questo è il diritto naturale io dico queste cose da già parisi ingaiese come diplomatico e ambasciatore di pace del popolo di madre terra e lo dico da medico a tutela anche di Pasquale Aiese che da 30 anni cerca di fare il medico contadino e comunque ha avuto soltanto richiami anziché stupirsi di Pasquale ma com'è quella lì che teneva il cancro metastatico quella sta ancora a bene doveva morire 4 anni fa ma che stai facendo io niente come niente niente e guarda qua gli esami dicono che non c'è più le metastasi e cosa hai fatto tu io niente ho semplicemente tranquillizzato la persona facendogli capire che era successo e poi è andato verso la sua vita non aveva tempo di pensare più agli oncologi è tornato a nuotare d'inverno è tornato a casa con la figlia ha riabbracciato il vecchio il fratello che non vedeva la tempo sono successe le cose d'amore e come le metto su una cartella clinica tutta questa parte qua che è una cartella già prepostituita da intelligenza artificiale sono domande vuote stupide quelle che stanno sulla cartella clinica ma questo 20 anni fa eh sto parlando di allora e 20 anni fa ci chiedevamo come facciamo a dire al mondo che non esistono le metastasi e non esistono i virus e cominciamo a lavorare con Ericsson a terapia breve cominciamo al Satramara Sion le costellazioni spirituali come potete trasmettere una comunicazione ad una umanità già foriata ci stiamo provando a trasmettere in anni 90 ci stiamo provando oggi riesco a dire meglio queste cose e riesco a essere anche un pochino più ascoltato proprio perché chi ha vissuto e ha resistito ha fatto una scelta precisa oggi è ancora più sveglio di come era prima è molto più coinvolto perché magari diciamo ma tanti non sono medici ci pensano i medici in realtà oggi ognuno deve essere medico di se stesso il nostro corpo fisico e il nostro luogo di preghiera io lo chiamo Tempio Divino il numero 5 nella numerologia tantrica lo dobbiamo conoscere solo in questo modo nessuno ce lo può poi espropriare e barattare svendere altrimenti siamo schiavi e anche in autodeterminazione la vera sovranità la guadagneremo solo quando comprenderemo con precisione tutto ciò che appartiene a quel binomio salute e malattia che è un binomio utilizzato per controllo sociale è una cosa che diciamo da tantissimi anni adesso è venuto alla luce questa cosa qui e noi condividiamo tanti spazi anche di bellezza con il tuo per poter portare avanti un dialogo pur sapendo che ci controllano perché qua siamo comunque siamo controllo devono aver paura di noi devono loro aver paura di noi secondo me non è un certo di manifestare paura siamo noi che io dico sempre quando si è sempre stati in onore quando non si sono mai fatti compromessi particolari tra virgolette schelite negli armadi non ne abbiamo non sottravendo nessuno non è che ho detto prima hanno una certa lobby mi sono fatto un po' corrompere e poi mi sono pentito nelle grandi lobby il pentimento non è previsto se vede tante persone che sono state eliminate ma parlo anche di Michael Jackson sono state eliminate perché inizialmente hanno sposato con i principi e poi hanno capito che non faceva per loro che stavano andando in uno spazio demoniaco una volta che hai fatto il patto con demoni non puoi tornare indietro quindi tanto vittimismo questo nell'epoca recente anticamente ci sono altri esempi io conosco bene la storia del grande presidente Aldo Moro ho la fortuna di essere amico della figlia e quelle erano persone in onore persone che però ce l'hanno ce l'hanno un po' mistificate ce l'hanno un po' cancellate eh cancellate più che altro proprio nascoste dovremmo toccare argomenti importanti abbiamo avuto due bandati un presidente napolitano che quando fu ucciso Aldo Moro era a cena con Kissinger queste sono cose storiche lo sanno tutti però ovviamente Vespa non ne parlerà mai altrimenti gli bruciano la casa perché Vespa ha firmato il trattato un patto di sangue c'è da dire comunque che in questi tre anni grazie a questi tre anni questa tecnologia che prima non era così sfruttata la stiamo comunque facendo lavorare anche per le nostre informazioni per la nostra divulgazione io fino a tre anni fa non facevo dirette mi occupavo degli stessi argomenti ovviamente ne sapevo molto meno perché conoscevo molti meno non ne eravete conosciuto immagino che tu sia sempre stata una donna molto diretta il fatto che non ne facessi ora si riesce a essere diretta non conoscevo questa modalità diciamo che la tecnologia ce l'ha insegnata per necessità questi tre anni guarda se noi utilizzassimo in onore anche l'intelligenza artificiale tutto quello che noi potremmo lavorare un paio di ore a settimana e vivere tutti felici ma parlo di tutto di tutto il pianeta utilizzeremmo l'energia solare che è stupenda il fotovoltaico dovrebbe essere un obbligo l'energia rinnovabile ma non con tutta quella manfrina che ci sono che fanno un sacco di cose utilizzeremmo i campi quantici i campi eterei Tesla non avremmo bisogno avremmo un'autonomia e indipendenza soggettiva quella è la vera sovranità quando sei indipendente anche dal punto di vista delle risorse energetiche tutto a favore dell'umanità ma tutto può essere invece utilizzato nelle mani di pochi e la medicina è proprio questo è nelle mani di pochi di pochi una lobby mafiosa che si è impossessata anche di tutto quello che è l'alternativo perché gli omeopati di oggi ma anche gli agopuntori di oggi o quelli che fanno i digiunisti ma non fanno nulla di quello che dicevano i maestri sono lontani dal lignaggio di Hahnemann di Lingshu di Shilton tutti quelli che hanno messo in gioco che cosa l'intervento semplice se Hahnemann dinamizzava i rimedio i primopatici sulla Bibbia se Lingshu diceva che la via maestra per la salute è la rettitudine e la sociovolezza è lo stare in armonia e in amore col prossimo se Shilton stava lì accarezzato i pazienti e poi gli dava le pillole che produceva lui curando tubercolosi tumori cancri di quelle famose eccetera e quelle pillole erano pillole di pane e lui curava tutto e ditemi voi cosa ce ne facciamo anche delle medicine alternative questo è il discorso poi abbiamo dei sintomatici perché se io ho tanto sintomi caldi se scoppio di calore ho bisogno di un medicamento freddo che possa essere un dimesodide come può essere il ribes migrum l'aloe arbolescens che sono simpatico i medici ma giusto per permettere al corte in quel momento di sollevare un po' e di gestire al meglio quella circostanza se abbiamo un esubero di batteri allora anche troppi batteri comunque danno noia quindi ci sono la penicillina e muffa la muffa è un prodotto naturale l'antibiotico è fatto imitando sostanze naturali tutti faranno che sono imitazioni di sostanze naturali i batteri appartengono al nostro sistema se però me ne vado in India e in poche ore faccio quello che la natura mi permetterebbe fare in tantissimi mesi la mia esperienza biologica è un po' arretrata conosco batteri nuovi il cervello non li tra non li ha ancora traslati ricrablati e quindi mi prendono intossicazione batterica non è tanto il discorso dell'infezione perché noi siamo 100.000 miliardi di cellule e per ogni cellula abbiamo almeno 7.000 organismi differenti quindi siamo un SRL di 800.000 miliardi di individui non possiamo eliminare i nostri cari microorganismi altrimenti non esistiamo più sono tante cose da dire se si guarda se si osserva la biologia vengono smontati tanti miti che vengono un po' cavalcati anche ovviamente in buona coscienza con il desiderio di scoprire nuove cose e ti posso dire che la medicina alternativa era una cosa che io cominciai a vedere perché tanti medici omiopati erano proprio belli bravi simpatici etici e quindi mi appassionai più a quell'ambiente rispetto ad altri che erano più ambienti di potere e poi volevo a tutti i costi curare mio padre che prendeva un sacco di farmaci che comunque nonostante abbia preso tanti farmaci è quello che ha vissuto di più di tutti ma e lui mi diceva perché ho capito due lauree che ho fatto anche biologia prima ma la vuoi dare una medicina quella vera perché l'omeopatia la copuntura gli piaceva quindi ogni volta che dovevo convincere a papà degli effetti dell'omeopatia poi me lo facevo anche coi pazienti e stavo completamente quando ho capito che papà stava bene nel suo spazio questo 11-12 anni fa e finalmente disse papà io non sono ortopedico sono tuo figlio sono piccolo tu sei grande tu sei migliore di me e io non posso permettermi di e la mia vita è cambiata completamente sono stato ulteriormente facilitato questo 12 anni fa anche perché poi a quel punto queste cose le leggi biologiche le costellazioni familiari tutto questo movimento era diventato completamente arabo per le persone che mi circondavo di cui mi circondavo allora quindi piano piano dovevo mandare i pazienti a casa non li volevo più dovevo dire ai miei vicini anche la mia la mia la mamma dei miei primi figli rimaste terrorizzati io mandavo i pazienti a casa non volevo ma come non vuoi più visitare no le leggi biologiche e quindi stavo in quella fase dove non c'era più bisogno di l'omeopatia un po' di acopuntura se proprio avevi un dolore ma l'omeopatia era troppo abusata non è così che Aneman facevo omeopatia e piano piano mi sono ritagliato questo spazio che diventa sempre più funzionante quando ho detto definitivamente mamma e papà non posso salvarli io sono il piccolo voi siete i grandi prendo da voi tutto quanto al prezzo che vi è costato e al prezzo che vi è costato e vi prometto che ne farò qualcosa di buono andrò verso la mia vita e lo farò lasciando a voi il vostro destino che vi appartiene e che ha la vostra responsabilità e lo farò onorandovi e questa onorevolezza è potente perché quando onori mamma e papà riesci a stare in onore anche nei tuoi rapporti quando vedi che qualcosa si inclina con qualcuno perché ha toccato quel tasto quella nota profonda che è qualcosa che ancora tenendo in sospeso con la tua famiglia d'origine guardarsi dentro è importante diceva Vaslavic guardarsi dentro rende ciechi bisogna superare quella cecità e affrontare con altri sensi perché abbiamo molti altri sensi oltre che l'ha visto senti il Pasquale Agliese Saggio secondo te la morte è un qualcosa che è già di predeterminato oppure con il nostro libero arbitrio possiamo allungare e scorciare te con tutti i pazienti che hai avuto cosa pensi noi siamo toccati il libero arbitrio è un'altra cosa di cui stavo parlando prima e io ritengo a questo punto che quello che è successo in questi ultimi anni più che libero arbitrio più che capace di scelte io dico alle persone di tanti compagni amici fratelli sorelle che mi circondo noi siamo tutti un po' già toccati scherzando faccio anche questo segno qua siamo tutti già un po' toccati nei miei simboli d'amore ci sta San Michele Arcangelo è un angelo di luce è un angelo guerriero quindi siamo toccati un po' a quel livello lì la morte sai la morte è qualcosa che va affrontato con tanto onorevolezza la cosa più importante è riuscire a arrivare riuscire a morire da vivi è la cosa più difficile più che occuparci della morte tanto come diceva nella lettera per la felicità Epicuro diceva perché preoccuparsi della morte tanto quando saremo morti non ci sono più preoccupazioni ci preoccupiamo per un momento in cui non avevo più preoccupazioni è strano no? in realtà viviamo la vita e in momenti in cui tu vivi la vita pieno delle tue capacità sicuramente morirei da vivo e sarà un grande successo oggi con la medicina preventiva la gente muore molto tempo prima della morte fisica e questi qua che si vaccinano i vaccino pseudo chiamiamo vaccino col covid le mascherine i tamponi la paura ed è quella comunicazione medica con l'informazione medica io dico sempre da medico specializzato anche in medicina preventiva la medicina preventiva questa medicina preventiva previene la mancanza di malati non previene la malattia e già quando prendi un farmaco che ti dicono che forse ti preverrà l'infarto ogni volta che prendi quel farmaco che assolutamente non c'è nessuno studio di corte serio che ucrenna diciamo prima che confermi che effettivamente l'uso di quel farmaco al 100% che uno studio scientifico dovrebbe essere così 100% ti previene l'infarto uno ogni volta che prende quella medicina il suo mantra è potrei avere un infarto potrei avere un infarto cioè sei già mezzo morto c'è una parte di te già pensa che può avere un infarto da un momento all'altro quindi muori muori già da morto perché se vuoi una tosta risposta della morte io avrei inserificato il più importante e il più morevole della vita la vita è un grande dono l'ha vissuto intensamente l'ha vissuto in libertà libertà e salute non a caso affrontare l'associazione libertà e salute libertà anche nella scelta quindi non voglio essere condizionante che ognuno scelga in virtù dei propri codici ma che ognuno scelga soprattutto di vivere la vita intensamente e di arrivare di riuscire l'obiettivo comune è quello di morire dai vivi vuol dire che è stato un viaggio questo molto interessante e apre anche altre strade perché io sento che percepisco e non è una cosa che la posso spiegare razionalmente ma percepisco un livello di immortalità nel nostro essere profondo io io stavo pensando quando te lo chiedevo se secondo te vedendo quello che hai visto ti sei fatto un'idea che la data come se fosse già assegnata per scindere da quello che facciamo la nostra data è quella lì poi se ci arriviamo da vivi da morti già come come zombie ma guarda non ci passo molto tempo a pensare a queste cose sono magari se proprio volessi pensare a dei numeri me li giocare all'otto magari un risultato calcistico per vincere qualcosa per una cosa di soldi ho quattro figli comunque i soldi servono considerate che ho fatto due anni totalmente non retribuito perché mi sono dato sospeso all'ASD quindi comunque e i miei figli sono abituati da mamme eccezionali a non chiedere più di quello che possono chiedere mi basta questo questa è una grande ricchezza però non penso a questi numeri queste cose qua queste date sono aspetti sai il mio maestro di Satana Marasain Guru Dev si incalza una volta una donna gli chiese ma tu con i tuoi poteri riesci a parlare anche con gli animali e lo guardo così mi hai scoperto dice quasi una faccia sì sì l'altro giorno parlavo con un signolo seppoggiato sul bordello mi finessa mi ha cominciato a dire tante cose tante cose tante cose a un certo punto ho detto ti prego lasciami in pace mi interessa sapere tutta questa storia sto meditando e quindi ho tornato a meditare in quello spazio sacro zero Shunya dove la mente che mente spudolatamente non ci depista la contemplazione e tutto questo livello avviene attraverso la contemplazione mi sono avvicinato a questo livello dopo circa dieci anni di Satana Marasain ho cominciato negli anni 90 91-92 le leggi biologiche ero conosciute nel 2002-2003 quindi sono arrivato in uno spazio di meditazione quindi è una cosa che auguro è indispensabile cioè passare dalla meditazione è uno spazio indispensabile per chi non riesce a meditare per chi dice un a caso ma sai per chi ha difficoltà a staccare la mente a staccare i pensieri dice il grande Simone Venturini il mio amico ex biblista lui dice il regno dei cieli è il campo morfogenetico noi in questo momento attraverso questi scambi abbiamo già aperto un campo morfogenetico e quando rimani un po' così in leggera consternazione biologica stai già meditando quando non sei troppo sicura di quello che vuoi fare stai già in uno spazio di meditazione l'eccesso di sicurezza è perdente la totale incertezza che è anche un po' autistica quella non va bene ma stare un attimino sospesi senza scegliere necessariamente il giusto ciò che è giusto e ciò che è sbagliato è quello il campo di meditazione poi ci sono delle tecniche e vanno fatte come sempre le tecniche giuste che non creino troppe forzature perché poi altrimenti ci stiamo meditando ma che è non è quello si medita anche semplicemente guardando il cielo guardando il mare io medito molto quando sto a mare mi sento un puntino piccolo che comunque è il centro dell'universo perché se l'universo è infinito tutti siamo il centro dell'universo possiamo essere in quel momento lì semplicemente questa emozione è un'esperienza meditativa poi esistono tante tecniche quando facciamo i seminari in presenza con una chatta la marasana le costellazioni spirituali dove vediamo la verità del sintomo noi facciamo tanta meditazione facciamo tu non sei mai venuta credo ma se facciamo le costellazioni c'è ancora una resistenza se facciamo un po' di meditazione assieme è un po' come suonare le corde di uno strumento le corde vibrano cioè non è che devi essere un grande musicista il suono si esprime anzi Dio ha creato una cosa stupenda tra le tante che è la musica è un po' come il discorso di Napoli c'è quella barzalletta Dio ha creato Napoli che è il posto più bello del mondo e poi dentro ci ha messo i napoletani perché è un equilibrio e lo stesso è la musica ha creato una musica che è una cosa stupenda e poi ha inventato anche i musicisti sono un po' come i medici perché sono pochi i musicisti che veramente suonano col cuore sanno il significato della musica che è un bene universale non è qualcosa che appartiene a chi la studia la musica la musica è un bene universale poi c'è anche chi la studia ho un figliolo che studia e sta mostrando al conservatorio fa composizione applicata che per me è arabo sebbene io strimpelli lui qua ha trovato pianoforte chitarra disarmoniche violoncelli ma lui studia la musica io strimpello però quella vibrazione mi emozione mi mette nello sciunia soprattutto se ha 432 hertz quindi confermi l'importanza di questa frequenza perché qualcuno dice che comunque la terra continua a cambiare frequenze non è vero che è fissa 432 hertz ma io confermo non quello che qualcuno dice le emozioni che mi procura dice vabbè ma tu c'è le tue emozioni ma se io mi metto in uno spazio tranquillo percepisco che sono meglio seguo meglio un pezzo se la musica è 432 vuol dire che mi suona mi risuona qualcosa di diverso quindi soprattutto in quel campo lì che non è il mio campo il mio hobby nella medicina io non so sentire quello che qualcuno dice io guardo ho delle ho la possibilità proprio perché quello l'ho studiato come un direttore di orchestra quella parte lì io so ogni piccolo piccola variazione anche mentre il paziente mi sta parlando e si gratta la spalla sinistra percepisco delle cose e questa è la bellezza delle 5 leggi biologiche avere la possibilità di capire dal sintomo dal linguaggio del corpo uno pensa al sintomo oh dottore come sto male il sintomo è il linguaggio del corpo da quel linguaggio capire l'esperienza la percezione che in quel momento quella persona che si gratta a sinistra da mancino sta sentendo che sto sto premendo troppo l'acceleratore perché quella è un dolore sotto soglia di separazione attacco quindi questo linguaggio preciso io lo verifico quotidianamente non ho bisogno che aspetti che qualcuno mi dica o non mi dica che quello che dice il fatto delle frequenze che cambiano ma come me lo dimostri come mi fai a dimostrare scientificamente una cosa del genere le persone troppo certe su questi dati teorici sono imbrogliano innanzitutto se stesse cercano un po' già la certezza su un dato teorico è assurdo perché come fai a essere certo però noi facciamo il passaparola capito ci riempiamo le cose innanzitutto bisogna sempre capire da quale pulpito avviene una certa predica tante persone che anche in questi tre anni ho conosciuto interviste cose ma la maggior parte cercano un proprio posto al sole o intervistandoti o cercando di farsi intervistare ma alla fine stringi stringi di cose buone ne ho viste pochissime anzi quelle proprie cose buone da quelli che dovevano salvare il paese dai grandi invasori sono state manipolate ad avere i propri gatekeeper quindi ho capito che molti di questi personaggi erano stati messi lì apposta per depistare quindi l'opera di depistaggio è talmente elevata che se vogliamo stare a sentire una cosa per un'altra dobbiamo fare imparare a guadagnare degli strumenti di sovranità dove riusciamo noi personalmente a verificare certe cose se non abbiamo l'opportunità almeno comunicare con persone reali vere che conosci cosa fa di cosa vive di cosa pensa a chi ama di chi si deve proteggere quando si è creato la comunità allora in quella comunità coerente possono passare delle informazioni che tendono ad un'evoluzione comune ma una comunità isonico-orale esterna che proiettata non sai quanto ti sta manipolando in quel momento quindi io invito sempre tutti a lasciar perdere il sentito di dire e nel mondo medico il sentito di dire ammazza ammazza in maniera letteralmente e realmente più che se vuoi una considerazione sulla morte ti posso dire che le persone che vivono di più e questa epidemiologia le persone che vivono di più sono quelle che non vanno dal medico ecco così almeno abbiamo dato un consiglio nella montagna della Sardegna quelli bevono il canno no no quelli non vanno dal medico sulla sila perché mangiano quel fungo no quelli semplicemente fanno i contadini vanno a dormire alle 10 di sera alle 5 di 6 e non vanno dal medico hanno un dolore si mettono nel letto con la sisana punto questa è la è la verità epidemiologica alza la media c'è una domanda Pasquale aspetta un attimo vai Alessio Adigia è vero che la musica di oggi fa male agli esseri umani allora già gli esseri umani significa essere come l'uomo noi siamo tutti uomini esseri viventi di genere maschile e femminile anzi mi dai grazie per questa domanda poi rispondo subito mi dai l'opportunità di definire questo aspetto anche sul sesso sulla sessualità che oggi è molto abusato a questa idea del transgender di questa terza dimensione noi siamo tutti maschi e femmini utilizziamo il nostro essere femminile il nostro essere maschile a seconda di varie relazioni con l'ambiente abbiamo una corteccia femminile e una corteccia maschile e non esiste un terzo sesso c'è il maschile e il femminile humus colui che crea vita il termine latino genere maschile e genere femminile ovviamente se ci accoppiamo con una femmina mettiamo da maschi mettiamo in risalto il nostro maschile ma possiamo anche nell'accoppiamento con un'altra con l'eterosessuale essere più femminile e la femmina più maschile è comunque trovare un'intesa anche nel rapporto omosessuale cosiddetto c'è qualcuno che è un pochino più femminile e qualcun altro più maschile quindi c'è sempre maschile e femminile come esseri viventi come esseri umani significa che siamo bestie che somigliamo all'uomo siamo umani noi siamo uomini non siamo umani la musica come la trasmettiamo attraverso questi canali l'MP3 sì non so che sono delle frequenze c'è chi ha studiato questo fenomeno delle frequenze e vede che l'MP3 poi c'è la musica ma questo scusami questo è lo strumento te stai parlando dello strumento che veicola la musica io penso che questa questa ascoltatrice si riferisse alla musica di oggi in generale perché ci sono la musica di oggi la musica di oggi per me Sting Pink Floyd è di oggi proprio di oggi ho rivisto Sting e poi di quello fa io sto a casa con un musicista che sente musica classica tutto il giorno suona il classice e poi compone grazie classica le pentatoniche classiche quindi tutti quelli che stanno così ma quelli si fanno si impasticcano quindi sono le pasticche che fanno già di loro male non puoi ascoltare quella musica se non ti pasticchi quando sentite quella musica là avete che fare con persone che stanno sotto effetto di sostanze stimolanti create sempre dalle case farmaceutiche perché le droghe naturali sono la maggior parte delle droghe naturali sono medicine sacre ma stiamo parlando della psilocibina dei veri cannabinoidi stiamo parlando anche dell'acido acetilisergico quello contenuto il peyote ma non di tutte le droghe commerciali l'eroina per esempio non è una droga che deriva dall'oppio non piace o è fatta la fece la Bayer negli anni inizio novecento quindi tutti questi impasticamenti che si fanno per sopportare meglio lo stress permette anche di ascoltare quei ritmi che sono tutt'altro che musica è già quella vita che fa male è già quello che queste persone fanno è una vita già maledetta di loro e ovvio se c'è un bambino un figlio che sta ascoltando questa musica facciamoci delle domande e vediamo come possiamo cambiare il sistema quando mi chiamano i genitori allarmati per i comportamenti dei figli o per dei sintomi che i figli hanno anche se i figli hanno una certa età io intanto non medicalizzo il figlio la preoccupazione è tua il figlio è quello il suo sintomo è un sintomo della famiglia e quindi incontro i genitori e cerchiamo un po' come attraverso quella costellazione psicotica quella è una psicosi del figlio come poter che è sempre un adattamento al sistema familiare questo me lo insegna comunque la psichiatria io ho avuto la fortuna da ragazzo proprio perché non avevano stata già segnata di lavorare in psichiatria di lavorare in pediatria pensate che ho lavorato anche in neonatologia 30 anni fa fece tre anni di neonatologia dove i bambini nasce ho fatto l'internista nelle cliniche psichiatriche quando arrivavamo alla famiglia la domenica si scompensavano tutti quanti durante la settimana stavano una favola anche prendendo ovviamente molti degli psicofarmaci quindi è proprio il sistema famiglia e se abbiamo un sintomo non è quelle le cattive amicizie dobbiamo prenderci la responsabilità di capire cos'altro possiamo passare a questa creatura per fare in modo che non eviti il male che evitare il male per la pura del male è il maligno è la pura del demonio ma che sappia stare nel male per godersi anche il bene prendersi anche qualcosa dal bene perché è la legge della dualità non possiamo eliminare il male possiamo imparare a stare nel male per poter coltivare e guadagnare il bene e questo il pater nostrum in origine diceva oh signore liberaci dal maligno non liberaci dal male che se mi liberi dal male mi liberi anche dal bene la legge della dualità mi liberi dal maligno il cancro maligno il maligno significa avere paura di un male quello è il maligno infatti ci insegna ad avere paura del nostro corpo stesso che le risposte tumorali sono risposte biologiche del nostro organismo non esistono gli oncoli le sostanze cancerogene la vita magari può essere cancerogene ma è adattativa ed è cancerogena la mappa oncologica che ha inventato il cancro nella formazione di domani l'ultima slide ora ve l'anticipo l'anticiperò pure a quelli là a quelli là che parteciperanno domani alla formazione online c'è una frase di un grande musicista un grande storico stupendo persone eccetera dei tempi nostri oltretutto medico che è Yannacci la medicina ha fatto dei passi da gigante in questi ultimi anni è riuscita a inventare tantissime malattie quindi è proprio quel codice lì che ci spinge poi verso quella paura di cosa sta accadendo il non c'è tempo da perdere quando poi abbiamo visto che il vero terapeuta è proprio il tempo pazientare il tempo che il fenomeno prende una sola risoluzione e poi il giusto equilibrio anche con un sintomatico quando serve e vedi che poi quella cosa che ti devo ammazzare in pochi mesi boh io sono ancora vivo dottore ma non mi dica sciocchezze ma sono copiato queste cose dottore ma lei ha detto che dovevo morire quattro mesi fa è venuto qua per prendermi in giro invece di dire ma come hai fatto che me le segno imparo a volte gli ho fatto dire anche hai tre mesi di vita e gli chiamo al dottore e gli puoi chiedere se metti su carta intestata che i tre mesi di vita e soprattutto il giorno la data è anche l'orario preciso in cui muori se te la posso scrivere perché lui è scientifico poi normalmente che loro riescono a capire che tu muori in tre mesi mi posso dire che normalmente dopo tre mesi si muore in overdose perché in tre mesi ti danno tanto di quella morfina che un tossicomere ci mette trent'anni per arrivare a quel dosaggio si muore di overdose non si muore di tutta quella roba vabbè stiamo toccando argomenti un po' spigolosi ma sai io faccio però interessanti tra l'altro volevo chiederti per concludere anche la serata ma il corso che te fai con il corso che te tieni cosa speri di cambiare cioè perché ti sei messo a fare il docente che cosa insegni con le scienze biosistemiche cosa vuoi insegnare nasco in una famiglia di docenti professori mamme i miei fratelli i miei sorelli tutti insegnano qualche materia stupenda io ho cominciato già da biologo quando stavo scritto a medicina insegnavo chimica in organica la mia passione è la chimica ho fatto una tesi sperimentale di chimica organica alle scuole infermieri quindi faccio professore da 30-40 anni le regi biologiche abbiamo cominciato a sperimentare ho insegnato omeopatia negli anni 90 ho insegnato yoga quindi è proprio della mia natura non sono un tipo facilmente silenziabile sono un po' logorroico anche se però se mi fai arrabbiare meno male dici cose interessanti contro in un mutismo totale io sono quello che mi ha dato via a quel paese perché non parla più se c'è qualcosa che non va mi chiudo non mi arrabbio sono insopportabile silenzioso le regi biologiche poi abbiamo cominciato a divulgare utilizzando una serie di parametri anche sulla comunicazione anche grazie alla sistemica familiare io oggi mi propongo dopo tanti anni avendo capito che è difficile insegnare le medici perché 20 anni fa tenevo proprio il corso per i medici con l'associazione Alba è difficile creare dei terapeuti perché il terapeuta se non non può che essere creato dalle leggi biologiche perché poi molti si confondono anche con la medicina germanica che è tutta un'altra cosa su un marchio registrato è una medicina interventista che dice non fare la chemio perché muori ma non è vero muori se non fai quello che ti fa sentire al sicuro poi lasciamo perdere anche i trattamenti il discorso è che oggi dopo tutto questo delirio ho pensato di fare cose molto più semplici utilizzando questa intelligenza artificiale fare dei gruppi online a un prezzo molto così popolare in modo che molte persone si avvicinano cominciano a capire oltre che a conoscere e lungo il viaggio il mio compito qual è? quello di permettere che loro possano anche comprendere la comprensione compassion significa aumentare uno spazio interno e questo lo facciamo inserendo tutte quelle regole che appartengono poi a quelle frasi chiarificatrici di cui parlavamo prima quindi l'invito poi a fare dei seminari in presenza dove lavoriamo anche con la mente meditativa e con le costellazioni spirituali quindi ora siamo arrivati che abbiamo un primo anno base un propedeo introduttivo un propedeo a questo primo anno che è un secondo anno che partecipano già il gruppo che ha fatto qualcosa l'anno scorso e poi abbiamo una specialistica la chiamo così di quegli stagionati non me ne vogliono gli amici ma sono apprezzati pigioni di me ma che da tanti anni studiano mi chiamano ogni giorno mi scrivo non ho bisogno la maggior parte comunque sono anche terapeuti ma altri no perché poi quando stai a sentire ti metti al servizio della vita ti arrivano una serie di informazioni io dico sempre sei molto più facilitato se non sei medico non sei terapeuta perché non tieni quel marchio e nella tua comunicazione puoi essere molto più facilitante proprio che sei facilitato che da me arrivano ancora con quell'idea che io posso salvare qualcuno e quindi devo prima scremare dal terapeuta idem perché il terapeuta è un pochino più modesto meno egocentrico del medico però comunque dice il mio terapeuta è il mio se un transfer vuole dire la mia mamma ma dice il mio terapeuta quindi liberarsi di questo transfer è già un problema per te che non hai l'etichetta di addetti ai lavori comunicare queste cose innanzitutto per te stesso per stare bene perché si è di più per gli altri se si è soprattutto più per se stessi se tu per prima è pure della malattia ma cosa trasmetti la più grande bellezza che noi possiamo comunicare e ti arriva uno completamente distrutto dalle diagnosi completamente in ansia io da medico gli dico senti ma tu scusi ora in questo momento come ti senti ora come ti senti no no sto bene però qua sta scritto quindi io non stiamo cercando una soluzione ma una soluzione per quello che sta scritto qua e tu intanto se non esististe tutta questa intelligenza artificiale dal medico non ci andresti proprio che dal medico ci va uno che non ti sente bene era questo il modo di fare la medicina anticamente quindi oggi siamo entrati in un loop dove curiamo anche con le medicine alternative persone assolutamente sane che hanno l'anatema che possono con questa cosa anche degli esami preventivi tipo che come fai 60 anni ti regalano tutti i check up qualcosa ti trovano sicuramente e te vai in un loop questo riguarda molto le regioni del centro nord noi qua a sud siamo ancora abbastanza ellenici a Napoli i miei distretti che ho gestito abbiamo fatto zero morti nonostante ci fosse una popolazione anziana perché non ci dimentichiamo nel 2020 avevamo 300.000 oltre 70 anni più del quinquennio precedente quindi un campione questa epidemiologia sono date in un campione dove ci sono più anziani sono anche più morti erano già attese le morti in quei cinque anni precedenti avevamo il posticipo delle morti non avvenute questo è il giochetto perché il 2020 ma a parte questa cosa qui in Campania nonostante abbiamo tanti anziani non ne sono morti abbiamo meno morti degli anni precedenti del quinquennio precedente perché non ci stanno gli ospedali non abbiamo i poli di eccellenza abbiamo però i medici di famiglia che anche se purtroppo sono condizionati a essere scribacchini per una piccola percentuale ma comunque sono medici facilitanti non sono come quelli ospedalieri che non ti conoscono tu almeno vai dal medico di famiglia già la parola è bella e vai lì e cerca di darti un consiglio rispetto ad una cosa se vai da lui non vai dallo specialista sei sicuro che stai bene se vai prima dallo specialista e poi vai dal medico vai dal medico in maniera un po' fraudolenta che è il medico che dovrebbe sempre dire senti questa cosa facciamoci aiutare da uno specialista e mai il contrario e in Napoli io ho detto sempre i medici di famiglia hanno evitato morti evitabili quelli che ho gestito nei miei distretti si sono comportati onorevolmente anche con la paura del virus abbiamo fatto le visite domiciliari io le ho fatte anche senza mascherina e se e quando uno diceva ma hai fatto l'untore nel mio distretto abbiamo avuto zero morti zero decessi quelli morti sono morti in ospedale non a casa quindi questi sono dati condivisi 40 medici tutti possono testimoniare questa cosa qua quindi io mi onoro di aver partecipato con questi medici che non sono medici alternativi non conosco gli agiblogici ma sono medici in onore quindi ci sono i medici in onore anche se danno l'aulino l'antibiotico ma è che è importante che siano persone coscienziosi che c'è questa medicina alternativa diciamo ah veleno perché quel medico ha tanto cortisone ma non sai neanche come funziona il cortisone sul corpo ti hanno detto come la musica quella frequenza lì chi te l'ha detto il cortisone se lo usi in alcune ore non hai manco bisogno di scalarlo se riesci bisogna sempre saperlo usare ma non bisogna conoscere bisogna conoscere il modo che agisce il farmaco e quando prescriverlo la terapia è un'arte ma è un'arte scientifica purtroppo qua anche l'ortofrutticolo ti propone un farmaco e a mezzogiorno diceva pure questo ricordatevi ragazzi quando sarete laureati siamo tutti un po' medici un po' cuochi un po' pazzi diceva questa massa io ti aggiungerei anche navigatori poeti e musicisti però tutti dicono qualcosa rispetto alla medicina prenditi questo tutti parlano di farmaci come naturali o alternativi o convenzionali e il sistema questo vuole vuole che ci sia questa divulgazione del sentito dire che annienta ulteriormente la nostra capacità di intendere e di volere questa è un po' una parte che mi permetto di dire da medico da medico non interventista oltretutto e da medico che insegna alle persone le maschere normali agli esseri viventi per sé significa maschera a imparare a come gestire i propri corpi in autonomia quindi io demedicalizzo una cosa che inizialmente a te ti faceva un po' ti spiazzava demedicalizzare era il termine che non lo conoscevo bene questo demedicalizzare demedicalizzare significa parlare d'altro come facevano i maestri tu vieni a studio e ti faccio morire dalla risata infatti io ho anche la batteria elettronica se i bambini li faccio solo la batteria cioè cambiamo argomento e poi vediamo ovviamente affrontiamo quel problema lì ma poi ti rendi conto quel problema è un problema accessorio hanno scritto delle robe suggestivo di da scriversi a di probabile origine tutti quegli termini probabilistici così sospesi in aria è un non prendersi la propria responsabilità e lasciare tutto l'allarme possibile immaginabile a quelli di video che finisce di vivere che morirà prima o poi ma morirà da morto ma morirà da vivo questo poi il discorso prendiamo il discorso Epicureo allora noi abbiamo passato una bellissima ora insieme grazie Pasquale grazie a voi mi sono divertito bello bello di voi qualsiasi cosa vogliate dire al nostro ospite sotto metteremo il link dove ci sono c'è la mail libertà e salute di libertà e salute quindi potete parlare direttamente sia attraverso mail che attraverso messaggio il numero è direttamente di Pasquale quindi decidete voi cosa fare noi ci vediamo se no risponde Pasquale risponde già pari sì ecco a seconda di chi è sveglio in quel momento quindi noi ci vediamo mercoledì domani già perché oggi è una diretta straordinaria quindi noi ci vediamo domani con Iana e un altro argomento interessantissimo grazie Pasquale per essere stato con me ciao a tutti grazie a tutti condividete ci vediamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti